Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Chiara Pendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Chiara Pendino, allora oggi il governo ha incassato la fiducia sul decreto che limita i poteri di controllo della Corte dei Conti sui progetti del PNRR e voi e il Partito Democratico avete fatto ostruzionismo, ma Giorgia Meloni ricorda che lei si sta comportando esattamente come Conte e Draghi. Quindi siete a corto di argomenti, come dice la stessa Presidente del Consiglio? Guardi, la Presidente Meloni sta togliendo un controllo, che è quello concomitante della Corte dei Conti e vediamo un governo, l'abbiamo visto anche con l'ANAC, quando il Presidente aveva detto che il codice degli appalti non andava bene, che è stato attaccato anche sulle dimissioni, perché è un governo che per me è allergico ai controlli, però il punto è un altro, se posso dirle, perché noi siamo qui adesso giustamente a discutere della questione della fiducia e di questo controllo che è stato tolto. Però le racconto un fatto, io dieci giorni fa sono stata una marcia che è stata fatta in Piemonte, se ne è parlato poco, 12 mila persone in strada, senza spinte nazionali o politiche di rilievo mediatico, sa per cosa? Per la sanità, perché dicevano che non avevano il diritto alla sanità, perché c'erano i medici che sono sottopagati, i infermieri. Perché le dico questo? Perché noi stiamo discutendo dei controlli, ma nel frattempo questo governo ha speso un miliardo su 33, lo dice la Corte dei Conti, rispetto a quello che doveva essere speso nel 2023. E nel PNRR ci sono 15 miliardi per gli ospedali, ci sono i posti, 260 mila posti asivi nido. Cioè io credo che questo governo, anziché giocare su questo tema dei controlli, che peraltro ha interesse di tutti che ci sia un controllo, metta a terra questi soldi, non possiamo permetterlo. Tra l'altro ricordiamo che quando stava l'opposizione, Giorgia Meloni, i fratelli d'Italia, chiedevano invece più controlli concomitanti, ma si sa stare all'opposizione e stare al governo sono due cose diverse. Questo vale anche per voi, onorevole Appendino. Noi delle bottaglie le abbiamo fatte, le abbiamo portate a casa, pensare di tutte le cittadinanze che adesso hanno smantellato, però io voglio tornare su un punto che secondo me è centrale. Cioè è vero che è complicato, io ho fatto la sindaca, lo so quanto è difficile spendere in Italia, però attenzione, questo è un governo che è composto ad esempio da una sua parte politica, io l'ho sentito con le mie orecchie in aula, senatori e parlamentari che dicono platealmente che è una fittata fatta il PNRR, questa forza politica, Fratelli d'Italia, non l'ha votato il PNRR in Europa. E poi il punto è che sembra quasi che sia un fardello, invece io credo che un governo serio dovrebbe viverlo come un'opportunità unica, sanità, scuole, infrastrutture. Allora, quando un governo e un ministro come Fitto viene in aula a riferire, dopo ormai otto mesi che ha il governo, che sta rinegoziando, ma non ci dice che cosa vuole fare, che progetti vuole portare a termine, ha bucato due volte le scadenze dei nidi e ancora oggi non sa dare una risposta su questo. Allora, guardi, io vedo un governo in confusione onestamente, che sta giocando su una partita che non è del Movimento 5 Stelle, non è del Presidente Conte e di tutti noi italiani. Le dico un'ultima cosa, io ho letto un articolo recentemente, al Sud, una donna su tre, lo dice lo Svimez, non può lavorare, madre, scusi, non donna, madre, perché non ci sono i servizi, perché i nidi costano troppi, perché non i posti. Cioè, possiamo capire che questa è una priorità. E la natalità passa anche dallo spendere i soldi del PNRR. Scusa, non avevo l'appendito, ma voi volevate il reddito di cittadinanza, che significa dare un sussidio alla gente per non farla lavorare. No, guardi, il reddito di cittadinanza... 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 No, guardi, la ricetta dei 5 Stelle era diamo un sussidio alle persone, va benissimo, perché c'è dappertutto un sussidio, ma quello che bisogna fare adesso è formarli e aiutarli a lavorare. Invece il Navigator ha fallito, il reddito di cittadinanza è stato incassato anche da chi non ne aveva diritto. Quindi, parlare di lavoro adesso dicendo che non va bene... No, guardi, il reddito di cittadinanza, solo per fare chiarezza, il reddito di cittadinanza noi l'abbiamo fatto, ha salvato, lo dice l'Istat, un milione di persone dalla povertà, tant'è che lo stesso governo Meloni, che aveva detto che era metadone di Stato, l'ha tenuto, per fortuna, nella sua parte di tutela dei fragili. L'ha tolto, purtroppo, ad esempio oggi è il caso di Torino, 10.000 famiglie che finiranno per strada, perché l'ha tolto a quegli occupabili che sono fragili. Però attenzione, dico un'ultima cosa, che credo sia uno spunto di riflessione, perché il tema del lavoro è un tema serio. La riforma del lavoro non crea posti di lavoro. La riforma del lavoro serve per dare un lavoro dignitoso, è per questo che serve il salario minimo, per questo che non bisogna precarizzare. Il lavoro lo crea con gli investimenti. E noi siamo il partito che ha portato a casa il super bonus, un milione di posti di lavoro, transizione 4.0. Il problema del governo Meloni, che può anche avere idee diverse, ma sta smantellando queste cose e non le sta sostituendo con nulla. E quella crescita che dicevano 1,2, per lo 0,8, deriva dal PNRR. Ecco, questo è importante da ricordare. Anche perché, e chiudo davvero, ma ci rendiamo conto che abbiamo un governo che sta dicendo che quello che va bene è merito suo e quello che va male in qualche modo l'ha ereditato. Cioè, questi numeri che vediamo, lo dice l'economia, sono numeri che sono frutto di politiche di mesi fa, quindi bisogna anche essere onesti intellettualmente. Salvini non lo so se è così entusiasta di questa reggemonia della Meloni nel centro-destra. L'opposizione, per il resto, è debole, divisa. Renzi e Calenda hanno fatto delle scene pietose. La leadership del PD è debole. Diceva Appendino, non si sa se sia opposizione. Carlo De Benedetti e Calenda. Carlo De Benedetti non va d'accordo neanche con questo tema. Carlo De Benedetti ha detto al Festival di Dogliani, da piemontesi, mi auguro che Appendino desidera il prossimo leader di 5 Stelle. Vedremo se... Intanto, mi scusi, qui ha aperto, voglio sentire Lucio Caracciolo anche, hai aperto un capitolo molto importante, perché è vero che lei diventerà vicepresidente del Movimento 5 Stelle, quindi la vice di Conte, giusto? In realtà in questo momento c'è una ridefinizione generica anche dei comitati politici per dare maggiore struttura. In questo momento è un tema in discussione, ma lo decideremo più avanti anche perché ci sarà una votazione. Posso dirle solo una cosa rispetto a quello che diceva Cazzuco che secondo me è interessante? Cambiamo argomento, ma poi io la riporto. No, 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 ma perché voglio sentire anche l'opinione, anche perché la leadership di Conte non è in discussione, lo anticipo già io. Per la verità leggiamo che in realtà siccome non è che stiate andando benissimo voi dei 5 Stelle, quindi... C'è un grande lavoro di squadra. Io voglio dire solo una cosa sul tema delle politiche economiche. Io credo e non vedo una discontinuità tra le politiche economiche del governo Meloni rispetto al governo Draghi, ed è proprio una delle sue elementi di contraddizione rispetto alla campagna elettorale che ha fatto, tant'è che ha incassato i complimenti di Monti, che non è proprio l'esempio... È una discontinuità, appena detto che hanno in parte abolito il reddito di cittadinanza. Io parlo sulle politiche economiche, cioè l'austerità, il tema del taglio di bilancio, la questione del debito. Noi ci ricordiamo comunque di Giorgia Meloni che era sovranista contro i falchi, eccetera. Quindi io sul tema economico, proprio per il discorso anche del rapporto con Draghi, non vedo una discontinuità, tant'è che Monti ha fatto i complimenti, non è proprio il modello culturale della destra sovranista, ecco questo intendevo dire. Senta, onorevole Appendino, qual è il più grande tormento in questo momento del Movimento 5 Stelle? Il tormento è quello in realtà del paese, io credo, perché lei prima diceva di Giorgia Meloni che dice che va tutto bene, però se andiamo a fare un giro al mercato io sento storie parlando con le persone del mondo reale che non arrivano fino a mese. Quindi voi non avete problemi al vostro interno? No, io dico semplicemente che quello su cui noi ci stiamo concentrando è cercare di dare risposte e convincere il governo a fare delle cose utili. Le faccio un esempio, in questo momento io sento persone che mi fermano per strada disperate perché con i mutui alle stelle i tassi che non arrivano più a fine mese. Ma che Conte continua a dire che il campo largo con il Partito Democratico non serve per vincere contro Giorgia Meloni? Facciamo il caso dei mutui, noi ad esempio stiamo cercando di convincere Giorgia Meloni a tassare gli extraprofitti per finanziare un fondo per aiutare che è in difficoltà con i mutui. Il PD su questo è con noi. Allora, sul salario minimo ad esempio facciamo una battaglia e il PD la fa, il concetto è che si lavora insieme dove ci sono le convergenze. Poi come giustamente veniva detto ci sono anche delle divergenze perché il tema delle armi ad esempio io francamente trovo sconcertante che in questo momento in Europa le forze politiche e noi siamo l'unica forza italiana che ha votato contro abbiano avvallato la scelta di poter utilizzare i fondi del PNRR per le armi. Allora, premesso che credo che questo continuo di invio di armi non abbia risolto anche perché al tavolo non sono seduti ma le dico un'altra cosa cioè L'Europa in tutto ciò di cui stiamo parlando è il grande assente ha perso un'occasione unica di svolgere un ruolo di mediazione un'Europa che decide di usare il PNRR per le armi Volevo dire che voi perdete un'occasione unica però per riuscire a riconquistare terreno rispetto a un governo di destra come quello di Giorgia Meloni che è fortissima Oggi in aula eravamo come dire eravate uniti però attenzione perché non voglio sfuggire la domanda a me non interessa il Movimento 5 Stelle non interessa un cartello elettorale per fare voti e poi litigare come abbiamo visto a Calenda Renzi lo show che stanno dando gli italiani io credo che serva un progetto condiviso sa cosa mi viene da pensare l'abbiamo fatto in certi posti poi non siamo stati sempre convincenti se lei facesse la leader del Movimento 5 Stelle avrebbe dall'altra parte Elie Schlein forse intanto non ci sarebbero queste scene sceneggiate che abbiamo visto con Renzi e Calenda già due donne non forse governare il Partito Democratico non è un'impresa semplice credo con tutte le contraddizioni che hanno ce la farà Elie Schlein secondo lei? è una grande impresa e credo che insomma nell'interesse anche di alcune battaglie io spero che ci riesca sulle armi francamente la prima prova che abbiamo visto in Europa non è stata bellissima perché alla fine il PD non ha sostenuto quella che invece è la nostra battaglia cioè non ha votato contro questa cosa dell'invio delle armi se noi non mandiamo le armi all'Ucraina la guerra finisce ma nel senso che le vince Putin e poi se noi vogliamo uscire dalla Nato e l'Italia ma l'Occidente però noi non abbiamo mai sostenuto però attenzione non dobbiamo fare un errore di semplificazione noi non abbiamo mai criticato non è che vogliamo uscire dalla Nato dal patto stiamo mettendo in discussione una strategia che oggi non ha portato risultato e questo è questo punto va bene grazie spettatrici e spettatori vi lascio a Giovanni Flores a solo di martedì e noi come sempre domani 8 e mezzo